E' stata una sveglia e il coraggio di uno zio a salvare la vita ad una famiglia di tombolo, a Tommaso Andretta e i suoi tre figli di 17, 14 e 10 anni. Erano le 6 del mattino quando in una villetta in via Vittorio Veneto Dario Albertorna ha spento la sveglia, si è alzato dal letto per poi ritrovarsi faccia a faccia ad uno scenario drammatico, cognato e nipoti intossicati da una fuga di monossido, gas all'inalazione letale fuoriuscito da una caldaia nella zona notte dell'abitazione. Lo zio da quel che mi risulta si era messo la sveglia alle 6 di mattina per andare a lavorare e di conseguenza ha sentito l'odore, fortunatamente dormiva nella stanza più distante dalla perdita e un po' intontito anche lui ha capito la gravità e li ha trascinati in salvo. Anche lui intossicato Dario Albertorna non ha avuto paura, ha preso uno ad uno e tre nipoti storditi dal letto portandoli in salvo fuori dall'abitazione. Caricato poi in spalla anche il padre dei ragazzi, Tommaso Andretta, ormai quasi privo di sensi, salvato dall'atto di coraggio del cognato. Per fortuna c'era anche lo zio, ma soprattutto per fortuna che era un giorno lavorativo in cui il bambino comunque doveva andare a scuola, i ragazzi dovevano andare a scuola perché se fosse stato di sabato o di domenica sotto le vacanze magari si vedeva tutto chiuso, si diceva li lasciamo riposare e sarebbe stata una tragedia. Trasportati d'urgenza all'ospedale di Padova, Dario Albertorna, Tommaso Andretta e i tre figli verranno dimessi in serata. Una storia lieto fine, un vero e proprio regalo di Natale per la famiglia e tutta la comunità di Tombolo. Un regalo di Natale importante anche perché la famiglia è già stata toccata da una vicenda molto triste, la perdita della mamma due anni fa per una malattia incurabile, perciò noi gli vogliamo tutti bene a questa famiglia, tra l'altro è una famiglia che si fa ben volere e a cui tutta la comunità è legata.